Sadhguru Namaskar, volevo sapere, qual è l'importanza del fare Shrad? Nella manifestazione della vita, della vita fisica, c'è, lasciami dire, una distinzione. C'è la vita e la vita fisica, per facilitare la comprensione. La vita fisica si è manifestata. L'energia vitale fisica, che generalmente viene chiamata Pran o Prana, ha cinque manifestazioni di base. Ce ne sono dieci, ma questo complicerebbe cinque manifestazioni di base. Vengono chiamate Samana, Prana, Udana, Apana e Vyana. Quando una persona viene dichiarata, diciamo, se un dottore sta osservando e dichiara che una persona in un determinato momento è morta ora, nei successivi 21-24 minuti, Samana inizierà ad uscire. Questo significa che Samana è responsabile di mantenere la temperatura del corpo. La prima cosa che inizia a succedere è che il corpo inizia a raffreddarsi. A un certo punto, tra i 48 e i 64 minuti, il Prana esce. Dopodiché, tra le 6 e le 12 ore, Udana esce. Finché Udana non è uscito, ci sono dei processi tantrici con cui potremmo riportare in vita il corpo. Ma una volta che Udana esce, c'è una possibilità davvero minuscola, ma è una possibilità inattuabile. A parte questo, è impossibile far rivivere il corpo una volta che Udana è uscito. Il successivo è Apana. A un certo punto, tra le 8 e le 18 ore, esso esce. Vyana, che è la natura conservativa del Prana, inizierà ad uscire da lì in poi. Può continuare ad uscire fino a 11-14 giorni, se è una morte normale. Cioè, se qualcuno è morto di vecchiaia, sono usciti per la debolezza della vita. Per una persona simile, fino a 11-14 giorni, certi processi accadranno nel corpo. Per mostrare che c'è ancora qualche elemento di vita, come le unghie che crescono, la barba, questo tipo di cose possono essere notate. Se qualcuno è morto accidentalmente, o in altre parole, la vita era vibrante ed è morto, non necessariamente con un corpo del tutto distrutto, il corpo è ancora intatto. Quel corpo, le riverberazioni di questa vita, continueranno per un periodo tra i 48 e i 90 giorni. Quindi, fino a quel momento, ci sono delle cose che puoi fare per quella vita. Che cos'è che puoi fare per quella vita? Vedi, quello che è successo con la morte è la tua esperienza della morte è che qualcuno se n'è andato. Ma l'esperienza di quella persona è che è uscito dal corpo. E, semplicemente perché è uscito dal corpo, non hai niente a che fare con lui. Non puoi riconoscerlo. E se ritorna, sarai terrorizzato. Se le persone che ami si appaiono, ci sarà del terrore, non amore. Perché la tua relazione è con il loro corpo o con la loro mente conscia e le emozioni. Queste cose sono state lasciate indietro. Il corpo è stato lasciato indietro e l'intelletto cosciente e la mente discriminante sono stati lasciati indietro. Ora, per quanto riguarda la mente, è solo un mucchio di informazioni che ha certe tendenze proprie. Tendenze naturali che trovano espressione in un certo modo. Non c'è nessuna mente discriminante. Una volta che non c'è mente discriminante, se metti una goccia di piacevolezza in questa mente che non ha capacità di discernimento, né intelletto, ora, questa piacevolezza si moltiplicherà un milione di volte. Se ci metti una goccia di spiacevolezza, quella spiacevolezza si moltiplicherà un milione di volte, come tuo figlio, che non ha il necessario discernimento. Esce a giocare. Non sa quando rientrare. Finché non è esausta e non ce la fa più, fino ad allora vuole giocare, perché non ha il discernimento necessario. Ok, è ora di andare. Allo stesso modo, questo è uno stato estremo in cui è molto più che un bambino, in cui la mente discriminante è completamente assente. Quindi, ora qualunque qualità ci metti dentro, si moltiplicherà un milione di volte. Questo è ciò che viene chiamato inferno e paradiso. Se entri in uno stato piacevole di esistenza, viene chiamato paradiso. Se entri in uno stato spiacevole di esistenza, viene chiamato inferno. Queste non sono località geografiche. Queste sono realtà esperienziali che una vita che è diventata disincarnata sta attraversando. Quindi ciò che la gente cerca di fare, quanto bene venga fatto, in che modo assurdo venga fatto oggi, è un'altra questione. Ma c'è un'intera scienza. Cosa fare in stadi diversi? Una delle prime cose che devi notare è che tradizionalmente, non so se lo mantenete ancora a Mumbai, forse è tutto sparito. Ma se qualcuno muore, ci saranno delle persone, la prima cosa che faranno è che leggeranno insieme gli alluci del cadavere. Lo fate ancora e è sparito. Sì, è molto importante, perché legare gli alluci stringerà il muladhara in un certo modo, così che il corpo non possa essere invaso o subire i nuovi tentativi di invasione da parte di quella vita. Perché quella vita non ha vissuto nella consapevolezza, sapendo che questo non sono io. ha sempre creduto, questo sono io. Anche se è uscita, cerca di entrare attraverso qualunque orifizio presente nel corpo, soprattutto attraverso il muladhara, perché è lì che la vita viene generata. E mentre il corpo inizia a raffreddarsi, l'unica zona in cui il calore rimarrà fino all'ultimo, l'ultimo punto di calore, è sempre il muladhara. Quindi cerca di rientrare. Per evitarlo, la prima cosa è legare gli alluci, affinché quel tentativo non accada, perché questo uscire sta avvenendo passo a passo. La ragione per cui, tradizionalmente abbiamo sempre detto, se qualcuno muore, entro un'ora e mezzo, massimo quattro, devi bruciare il corpo, è perché questo atto va avanti. Ora, questo è vero anche per i vivi. Se qualcuno a te è molto caro e morto, sai che è morto, ma la tua mente inizia a farti degli scherzi. Magari si mette seduto proprio adesso, magari un miracolo succederà, magari Dio arriverà e farà qualcosa di fantastico proprio adesso. Non è mai successo a nessuno, eppure la mente ci gioca, per via delle emozioni che nutriamo per quella persona in particolare. E questa stessa cosa è vera per la vita che è uscita dal corpo. Anch'essa crede di poter ancora rientrare nel corpo. Se vuoi porre fine al dramma, la prima cosa è bruciare il corpo. Entro un'ora e mezzo. Ma in quei tempi, siccome sai, villaggi e nessun dottore per dirti con sicurezza che è morto, qualcuno ha messo la pira funeraria, l'ha accesa, il tizio si siede perché non è ancora... Queste cose sono successe in passato. Allora l'hanno portato a quattro ore, così che questi errori non succedano. Però il più presto possibile, il corpo dovrebbe essere eliminato. Se ci sono delle comunità agricole, decidevano di seppellire, perché vogliono che gli antenati e i loro corpi ritornino nel terreno da cui hanno mangiato. Devi capire, eravamo un'agricoltura di sostentamento. Mangiavamo da quel terreno, quel terreno, un pezzo di terreno è ciò che consideriamo questo corpo. Quindi volevano rimettere questo suolo nello stesso suolo, non altrove. Lo seppellisci sempre nel tuo terreno, mai nel terreno di qualcun altro, perché hai mangiato da questo terreno. Oggi stai comprando ogni cosa nel negozio e la mangi, non sai da dove venga. Quindi la sepoltura non è una buona cosa da fare oggi. In quel tempo c'era un certo processo per assicurarsi che accadesse il più velocemente possibile. Sale e curcuma venivano sempre aggiunti, così che si dissipasse velocemente nel suolo. Ma la cremazione è una cosa buona da fare, perché chiude il capitolo. Vedrai, quando c'è una morte in famiglia, la gente piange e grida e fa ogni tipo di cose. Dal momento in cui la cremazione accade, la gente tornerà a casa. Tutto è tranquillo, nessuno piange per un po', perché all'improvviso la verità è stata assimilata. È finita, il gioco è chiuso. Questo non è solo per te, è anche per l'essere disincarnato che è appena uscito, perché anche lui è nell'illusione di poter rientrare e questo finisce. Ed è una buona cosa. E ci sono molti rituali per far sì che tu possa influire, che tu possa in qualche modo instillare una goccia di dolcezza in quella mente non discriminante, affinché quella dolcezza si moltiplichi molte volte e vivono in modo confortevole o in una specie di paradiso autoindotto. Questa è l'idea di tre rituali, se sono fatti nel modo giusto. Grazie a tutti.